Senatrice De Pretis, perché è importante il fondo di cui si è parlato oggi e perché è un problema culturale? Un fondo che abbiamo istituito con il nostro emendamento nella legge di bilancio, perché siamo assolutamente convinti che si sconfigge la violenza, si promuove la cultura della legalità, si sconfiggiano le mafie, soltanto attraverso la crescita della cultura, della legalità, e solo attraverso una grande battaglia culturale. Serve il contrasto sul territorio, serve ovviamente il contrasto delle forze di polizia, ma serve eliminare e sradicare invece la cultura della legalità, della violenza che purtroppo è ancora molto diffusiva.